Questo video tutorial è la continuazione del video tutorial precedentemente presentato per vedere come si compila la domanda per le gradatorie provinciali, per le supplenze e per le gradatorie di istituto. Abbiamo già visto come inserire la gradatoria di riferimento dove si vuole essere inseriti. Adesso vediamo come si inseriscono i titoli di servizio. Una volta inserita la gradatoria, qua ne abbiamo inserita solo una ma se ne possono inserire anche più di una, si va a azioni disponibili per i titoli di servizio. Cliccando su accedi si entra e si può aggiungere quanti titoli di servizio si vogliono. Noi ne aggiungiamo uno proprio per esempio. Aggiungiamo un titolo di servizio, andiamo a scegliere la gradatoria di riferimento. Ce ne sarà solo una perché ne avevamo inserita solo una, se ne inseriremmo altre ne potremmo avere un menu a tendina con più classi di concorso. Scegliamo appunto la classe di concorso di riferimento, l'anno scolastico per esempio il 2019-2020 e poi qua abbiamo la valutazione articolo 15,4. Cliccare qui sarebbe incoerente con l'anno scolastico perché qui si fa riferimento, quando si clicca in questa opzione, ha gli anni scolastici antecedenti il 2000 e riferiti alle scuole legalmente riconosciute. Per cui valuterebbero la metà il punteggio, ma vale solo per le scuole legalmente riconosciute cliccare qui per gli anni scolastici antecedenti il 2000. Dunque noi non clicchiamo perché siamo in un anno scolastico 19-20 e poi è un servizio di scuola statale. Il servizio è stato prestato nei corsi di istruzione dei paesi europei UE, benché l'Italia sia un paese UE, però si riferisce agli paesi stranieri, dunque no. Andiamo poi a definire l'insegnamento su cui è stato prestato il servizio. Il servizio è stato prestato proprio su matematica e dunque si tratta di servizio specifico. Che tipologia di servizio? Ecco, è molto importante questa menu a tendina. Allora, chi ha prestato servizio su una scuola statale, dunque un contratto regolare proprio di anno scolastico, deve cliccare questa indicazione. La indicazione BC1 è riferita a un particolare articolo 1,3, sarebbe l'apprendistato che le regioni fanno con le scuole dello Stato, in collaborazione con lo Stato. mentre il punto C si andrebbe a riferire a particolari progetti proprio creati per i precari e il punto D se la scuola fosse una scuola di un paese estero il cui certificato di servizio può essere ricondotto specificatamente al posto e alla classe di concorso di riferimento. Nel nostro caso, dunque, il servizio è un servizio tipico e il primario indichiamo questo con A. Poi, selezionare, però, è facoltativo se c'è una supervalutazione nel caso fosse una scuola di piccola isola o di montagna, ma per le scuole superiori solo quelle di piccola isola, ma in questo caso, per esempio, è stato svolto normalmente. E poi vedere se l'annualità di insegnamento è stata fatta sul posto di sostegno. Se sì, si clicca, altrimenti no. E poi il periodo del servizio. Immaginiamo un servizio del 2019-2020, dunque partenza in settembre 2019, facciamo conto il 25 settembre 2019, per terminare nel 2020, immaginiamo al 31 agosto 2020, il 31 agosto 2020, andiamo a prendere e inseriamo così. Calcolerà anche automaticamente i giorni e poi si deve dire in quale istituzione, per esempio, il geo-scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, si metterà poi l'indirizzo è facoltativo, si può mettere via via Possidonia e selezionare la provincia, per esempio quella appunto di Reggio Calabria per il servizio svolto in questo liceo e poi indicare il comune della provincia, cioè quello, in questo caso, il capoluogo di provincia, per Reggio Calabria. Si fa inserisci e il sistema dice qui sezione 1, la data di fine non può essere superiore e in questo caso, giustamente, siccome abbiamo messo, la facciamo a tutt'oggi, a tutt'oggi, dunque 2020, in riferimento a luglio e al 23 luglio. Inseriamo adesso, il sistema accetterà facilmente il nostro servizio attualmente svolto. in questo anno. E così si possono aggiungere altri titoli di servizio. In questo caso, sono servizi specifici. Il servizio, in questo servizio, va inserito una sola volta, non va ripetuto nelle altre classi di concorso. Speriamo che questo video tutorial sia stato chiaro e soprattutto utile per i nostri lettori. Seguiteci ancora nel nostro canale YouTube e nel nostro sito www.tecnoscuola.it perché faremo altri video proprio per la compilazione di questo tipo di domanda. Arrivederci.